Esibizione, dedicata sicuramente a questa giornata. Now I just fall down, I used to know, but I'm not sure now what I was made for. Devi essere magra, ma non troppo magra. Non puoi mai dire che vuoi essere magra, devi dire che vuoi essere sana, ma devi comunque essere magra. Devi avere i soldi, ma non puoi chiedere i soldi perché è volgare. Devi essere un capo, ma non puoi essere cattiva, devi comandare, ma non puoi schiacciare le idee degli altri, devi adorare essere una madre, ma non parlare dei tuoi figli tutto il tempo. Devi essere una donna in carriera, ma anche prenderti cura delle altre persone. Devi rimanere bella per gli uomini, ma non così bella da tentarli troppo o da minacciare le altre donne, perché ci si aspetta che tu sia parte della sorellanza, pur facendoti notare. E sii sempre grata. Sono così stanca di vedere me stessa. e ogni singola altra donna fare i salti mortali tutti i giorni per riuscire a piacere agli altri. Grande Milena, veramente. Una grande interpretazione in questa giornata contro la violenza sulle donne. è da notare come tutti i ginnasti e le ginnaste hanno un segno rosso.